Agici, stanza 216 I risultati non sono buoni C'è una ridotta motilità degli spermatozoi Se vuole avere qualche possibilità dovrà rinunciare all'alcol E alle sigarette Beviamo una cosa Siete fatti l'uno per l'altra Scusate, è colpa mia, non ho guardato Davvero non mi riconosci? Sono Bahriya Luna, piacere Perdonami, non do la mano alle donne Ho trovato lavoro Bahriya me l'ha procurato Bahriya e Wahhabita? Un Wahhabita, ma lo sai che gente è? Fanno il lavaggio del cervello alle persone Sopravvive ancora la purezza qui tra i fratelli Fratelli? L'Occidente vuole uccidere la femminilità nelle donne Voglio solo essere un uomo migliore No, non stasera Niente sesso prima del matrimonio Dovrò anche ridiventare vergine, eh? Pensiamo di essere musulmani Ma abbiamo dimenticato la nostra vera fede Stronzate Sei un esperto di questioni religiose? Ti ubriacavi e vomitavi a casa della nonna? Mi ora dai lezioni? La musica è peccato L'alcol è peccato La voce delle donne è peccato Anche ridere troppo forte è un peccato, non è vero? La voce delle donne è peccato